Siamo nel mio studio a Foligno, abbiamo appena preso alla mia paziente un'impronta per un futuro lavoro di protesi con lo scanner ottico della CareStream CS3006. Uno strumento veramente eccezionale che ci ha permesso in 8 minuti reali di prendere un'arcata superiore, un'arcata inferiore e l'articolazione. Un oggetto molto facilitante questo lavoro di presa e di impronta sono gli occhialini con la possibilità di non distogliere mai la visione da quello che stiamo facendo in ripresa con il 3D. Ci permette di non girarsi, di non distogliere lo sguardo da quello che stiamo facendo per una migliore visione. Non solo, ma abbiamo sempre anche sotto controllo il paziente in quanto possiamo solo con lo spostamento dei nostri occhi guardare direttamente in bocca al paziente o solo sollevando gli occhi vediamo quello che stiamo registrando. La nuova versione possono essere utilizzati anche come intrattenimento per i miei pazienti e soprattutto per i piccoli pazienti per distrarli da quello che facciamo in bocca, magari facendovi vedere un bellissimo cartone di mano.